Assemblea pubblica a Firenze dopo l'annuncio del sindaco Nardella di 44 nuovi parcheggi. Piano dei parcheggi a Firenze, promossi o bocciatura? Di sicuro una bocciatura in generale, nel senso che il piano presentato dall'amministrazione per i 21 parcheggi pertinenziali è assolutamente un piano che mette in ogni piazza, anche in quelle del centro storico, quelle più delicate anche dal punto di vista culturale, artistico e anche ambientale, perché spesso sono alberate, dei parcheggi, parcheggi interrati, penso al parcheggio in Piazza Tasso, che ancora non si sa come verrà fatto, in Porta Romana, in Piazza Indipendenza. Tre parcheggi sicuramente problematici, oggi ne discutiamo insieme ai cittadini, a coloro che in qualche maniera ne sono direttamente coinvolti. Il fatto che sia solamente pertinenziale, quindi che siano a favore dei residenti, ci garantisce ma fino a un certo punto, perché comunque sia un parcheggio, anche se per i residenti in aree dove non sarebbe necessario, dove si potrebbe trovare soluzioni diverse, a partire da sfruttare anche gli stessi parcheggi di proprietà dell'amministrazione comunale o di differenze parcheggi, quelli pubblici, aprendoli anche ai residenti, sono soluzioni alternative. E poi, di sicuro, il rispetto dell'ambiente, quindi delle aree alberate e soprattutto anche del patrimonio, che ci sono, l'arborio e del patrimonio anche dei palazzi storici, sono un fonte di preoccupazione per noi. E in fondo poi c'è tutta una serie di altri parcheggi non pertinenziali, penso all'eolo dentro l'ex cinema, e quindi una rinuncia dell'ennesimo cinema, ormai chiuso, ma che ormai rinunciamo anche a recuperarlo definitivamente, oppure in piazza Brunelleschi, dove nuovamente l'amministrazione continua a sostenere di dover realizzare un parcheggio assolutamente invasivo, non necessario per i residenti, e quindi semplicemente un attrattore di traffio in pieno centro storico. Perché fa così l'amministrazione? Ma è molto probabilmente perché vuol far cassa.